ciao a tutti quanti volevo oggi parlare di una parte del lavoro di colorazione che ha a che fare con la qualità delle linee del risultato finale cerco di spiegarmi normalmente si dice è una cosa effettivamente valida di lavorare a 300 dpi rispetto alla dimensione di stampa allora infatti in questo momento il questo documento per esempio è a dimensione finale di stampa 26 centimetri per 19 a 300 dpi ed effettivamente il la la qualità per il colore è più che sufficiente normalmente però io come disegnatore o comunque in genere i disegnatori lavorano in bianco e nero e i file delle scansioni che vengono forniti ai coloristi sono come minimo a 600 dpi in bianco e nero questo per esempio la scansione dello stesso documento di questa pagina insomma ed è a 1200 dpi dalla quale poi si comincia a lavorare a colori e la si porta 300 dpi adesso porto i due livelli di zoom allo stesso punto in maniera che si possa valutare la differenza guardate questa è la scansione e queste sono le linee della scansione questo è il colore che devo portare al 400 per cento perché abbia la stessa la stessa dimensione e adesso sto passando velocemente dal file della scansione al file dei colori si può notare facilmente che guardate per esempio queste linee più sottili queste qui del volto quando passo tra la scansione e il documento a colori si vede benissimo la differenza tutte queste piccole righe qui nel nel file a colori sono scalettate e sono fatte anche da dei pixel soprattutto grigi qua nella scansione avevo delle delle linee che per quanto comunque scalettate perché le stiamo vedendo veramente a un ingrandimento enorme comunque non sono sono di qualità migliore ovviamente nel momento in cui vedessi le due pagine alla allo zoom completo non mi accorgo delle differenze però questa cosa che che qui può sembrare piccola è particolarmente importante nei testi infatti normalmente anche se vi vengono chiesti i file a 300 dpi per il colore comunque il testo viene poi aggiunto successivamente in vettoriale perché leggere un testo con questi con questo aliasing con questi quadratini grigi tutto attorno è una disgrazia è un testo che sembra sfocato nel momento in cui lo leggete questo invece è lo stesso testo su una scansione a 1200 che può andare benissimo e può sostituire benissimo un testo vettoriale perché 1200 dpi raster sono del tutto indistinguibili una volta stampati da una da un risultato vettoriale quindi sarebbe carino poter tenere la stessa qualità per i testi è facile no basta rifarli basta evitarli di metterli nel nel file a colori li si toglie e li si inserisce come come vettoriale successivamente però la cosa interessante sarebbe quella di riuscire a tenere la stessa qualità anche per le linee in maniera da non perderci questi dettagli che nelle linee ci sono e che invece qua si sono persi guardate se metto solo le linee e cancello la parte a colori si vede benissimo per esempio su queste linee degli alberi che sono sottilissime nel file a colori a 300 dpi sono piuttosto rovinata insomma perché sono delle linee molto molto sottili nell'originale le linee c'erano si vedono queste righe della maglia quello che cerco di fare io nel momento in cui ho finito di colorare una pagina è comunque quello di mantenere la stessa qualità del segno voglio anche farvi vedere che questa cosa può sembrare una cosa da niente ma poi su carta si vede allora questo è un altro pezzo di pagina quella che sto vedendo in questo momento è la scansione il disegno bianco e nero a 1200 dpi in bitmap puro in nero questa è la sua versione convertita 300 dpi per essere colorata si vede a schermo una piccola differenza si può notare soprattutto nelle nelle parti nelle parti come qui degli occhi oppure queste linee qua molto sottili di questi personaggi qua fate caso questa è questo il disegno e invece questa è la versione pronta per il colore allora qui a schermo è veramente la differenza quasi non si nota però io volevo farvi vedere che ho provato a stampare le due versioni e questo è un video della stampa delle due versioni il problema è che una una stampante non è capace di fare i grigi come un monitor ma i grigi li deve simulare con un rettino questo viene fatto dalle macchine da stampa sia che stiate stampando in casa o che che sia stampato con una stampa offset in tipografia in ogni caso il in questo caso per esempio il nero che è il colore che ha più contrasto con la carta viene fatto con un inchiostro nero nel momento in cui si si chiede di fare il grigio viene creato il grigio attraverso un rettino io ho stampato le due versioni ho stampato con una stampante laser la versione a 1200 dpi che è questa fate attenzione ai questa è la stampa su carta a esatta dimensione di stampa si vede che in questa versione a 1200 dpi il segno è bello nitido questa 300 dpi è piena di puntinetti e di squadrettature che non sono quadretti ma sono appunto puntine di stampa quelli del rettino guardate quest'uomo qua dietro questa figura che è fatta le cui linee sono fatte quasi solo da puntini quando invece lo si confronta con la versione a 1200 si vede benissimo il la qualità diversa del segno questo è un bel segno questo non è un bel segno quindi anche se si dice che 300 dpi sono sufficienti si 300 dpi sono sufficienti in una fotografia in qualcosa di sfumato la differenza non si nota ma siccome noi facciamo disegni e i disegni sono molto contrastati con lo sfondo la differenza secondo me si vede perché questo segno che è il segno di una stampa a 300 dpi di un file in scala di grigio a 300 dpi guardate i segni sul volto guardate il gatto le linee degli occhi sono queste linee qua dietro sullo sfondo della finestra sono tutte seghettate mentre invece la versione a 1200 dpi della stesso pezzo di pagina vedete ha un segno molto più bello decisamente quindi quello che a me piace cercare di fare è cercare di ottenere questo livello di qualità della linee che in genere viene riservato al testo ma a me piace cercare di tenerlo anche per le linee soprattutto perché sono un disegnatore che lavora con delle linee piuttosto sottili e quindi queste differenze si notano e sinceramente io mi accorgo della differenza ecco quindi adesso volevo farvi vedere qual è il mio metodo che ho sviluppato in tutti questi anni che mi permette di di ottenere una qualità delle linee il più possibile elevata pur mantenendo un file a colori a 300 dpi e senza ovviamente perché sì la soluzione più semplice quale sarebbe coloriamo a 1200 dpi però è chiaro che la dimensione del file sarebbe intollerabile anche se adesso possiamo acquistare facilmente tutta la memoria ram che vogliamo eccetera però comunque non ha molto senso lavorare a 1200 dpi a colori anche perché proprio finiremmo per fare dei dettagli che nessuno vedrebbe quindi adesso andiamo a vedere quale può essere un metodo che funziona prima di tutto le cose che dirò sono basate soprattutto sul mio metodo di colorazione in questo tutorial spiego qual è il metodo che utilizzo per colorare e e quindi alcune delle cose che dirò sono coperte in in questa in questa lezione tra l'altro una buona parte di questi argomenti sul bianco e nero invece è coperta in questa altra lezione gestire le immagini in bianco e nero per per gli artisti digitali questa qui che è disponibile in inglese anche eventualmente insieme con quest'altra lezione che invece riguarda la gestione del colore sempre per noi che facciamo arte digitale possono essere acquistate o separatamente bianco e nero e colore oppure c'è un'offerta acquistandole entrambe insieme si può risparmiare il 25 per cento allora qual è la cosa più semplice da fare questa è una tavola colorata è la stessa tavola che abbiamo visto finora colorata e se avete guardato l'altro mio tutorial appunto su come coloro la cosa principale che faccio è questa di mantenere il livello delle linee esattamente uguale a quello delle scansioni quindi viene ridotto da 1200 a 300 dpi per per poter essere colorato però questo livello è assolutamente identico al file delle scansioni in più lo blocco quando lavoro con con il lucchetto in questo modo sono sicuro che non posso proprio farci nulla non posso pennellarci non posso cambiarlo e quindi basta nel momento in cui la tavola è finita è sufficiente nascondere il livello ovviamente fate il rinforzo a tale livello se non sapete cos'è anche questo è un argomento coperto nell'altro tutorial di colorazione comunque si tratta semplicemente di una versione più sottile delle linee in un altro colore che è fatta per fare in modo che il nel caso che l'inchiostro nero di stampa fosse troppo leggero il non si vedano delle brutte sovrapposizioni tra i colori sotto comunque insomma una volta che il documento è pronto potete semplicemente nascondere le linee io di solito faccio un duplicato dell'immagine unito e in questo modo ho un unico livello adesso posso convertirlo nel profilo ciano magenta che mi viene chiesto dalla casa editrice il documento è pronto magari in questo momento posso anche fare un appiattimento dell'immagine visto che noto ecco adesso è un unico livello background in ciano magenta salvo questo documento salvo come un tif col profilo colore ovviamente integrato senza canali senza niente e anche senza livelli e di solito vado a selezionare la compressione lzv che è un po' come zippare il file ed è anche molto compatibile chiunque è capace di aprirla e poi consegno alla casa editrice questo file che ovviamente ha il suo canale del nero con eventualmente il nero che serve al colore e gli consegno il file della scansione separatamente a 1200 dpi in questo modo quando loro vanno a preparare la tavola di stampa possono facilmente sovrapporre le scansioni a 1200 sopra a questo file che è a 300 e il risultato è il il misto delle due cose ne posso simulare un attimo in photoshop cosa succederebbe nel programma di impaginazione prendo il documento lo ingrandisco momentaneamente a 1200 dpi è stato scalato e ingrandito copio il file della scansione lo incollo sopra e scelgo moltiplica ed ecco qua cosa vedremmo in stampa facendo questo se vado a confrontarlo con il file originale delle linee mi accorgo subito della differenza adesso chiudo un attimo la scansione mi accorgo subito che questo è il file sul quale ho lavorato tutto il tempo questo è quello che dovrebbe uscire in stampa questo è il file a colori questo è il file a colori con sovrapposto il nero a 1200 immaginate poi che questo nero appunto nel momento in cui viene stampato non ha nessun effetto di retino e vedrete che su carta la differenza si nota tra questo e quello e ora veniamo alla parte difficile possiamo usare il metodo che ho mostrato prima se la nostra pagina ma non prevede in alcun modo che le linee cambino colore perché come con il metodo che vi ho mostrato un attimo fa qual è la questione la questione è che le linee rimangono uguali alla scansione quindi rimangono in nero che succede se io nel mio stile di colorazione come in questo caso il colorista ha deciso di fare decido di andare a schiarire alcune zone come qui vedete questi sono degli effetti di luce che agiscono su alcune zone della vignetta e schiariscono le linee queste linee qui non sono più nere sono colorate se io usasse il metodo di prima nascondo le linee duplico e ci metto sopra la scansione qual è il risultato il risultato sarebbe che queste righe qui che che qui sono schiarite e funzionano in questo modo nella colorazione verrebbero tutte nere sarebbe come diciamo per mostrarlo velocemente se io facessi questo cioè mantenessi invece ottengo invece di questo con le linee schiarite avrei sempre il nero sopra e quindi questo che non è esattamente la stessa cosa allora perché le cose funzionino vi spiego un momento come dispongo all'interno della cartella i documenti dei fumetti che coloro allora ho quasi sempre una cartella principale nella quale in questo caso per esempio è in questo percorso di temporaneo fumetto mettiamo che fumetto sia il titolo del vostro fumetto insomma e qua dentro ci sono i file di photoshop di tutte le pagine colorate una per una e la nomenclatura è sempre la stessa iniziano col numero di pagina 0102 oppure potrebbero esserci tre numeri se le pagine sono nell'ordine delle centinaia comunque insomma sono di seguito in questo modo poi c'è il nome del fumetto in realtà è un testo che potrebbe essere essere qualsiasi cosa e poi c'è una c per dirmi che è il file a colori in questo caso a colori in in rgb perché di solito se invece il file è a colori in quadricromia ci metto una q comunque insomma questa è la nomenclatura che mi arriva da anni di lavoro con delle case editrici che mi avevano inizialmente imposto una loro nomenclatura che ho trovato sensata e che ho portato nel mio flusso di lavoro all'interno della cartella le scansioni non le lascio qui ma le metto in una loro cartella scansioni quindi quando entro dentro la cartella scansioni ho dei file con esattamente la stessa nomenclatura quindi 01 fumetto è la prima pagina 02 fumetto è la seconda pagina e finiscono in t le pagine con con la scansione mentre invece finiscono in l le pagine che contengono lettering quindi questi questo file qui 01 fumetto t è il file principale che esce da clip studio paint col quale disegno che contiene in questo momento tutto quanto anche il testo e infatti è questo file che ho usato con con il mio solito metodo quello appunto che ho già descritto in altre lezioni in questo documento in pratica è quello dal quale ottengo la pagina su cui lavoro questa qui che abbiamo visto finora allora io nel frattempo adesso ho creato un ulteriore sottocartella nella cartella del mio progetto una sottocartella che ho chiamato definitivi è una sottocartella che in questo momento è vuota non contiene nulla e che andrà a contenere i file definitivi quelli che consegnerò alla alla casa editrice che come detto avranno una scansione a 1200 dpi con solo il nero e un file a colori con il con la pagina in ciano magenta allora vi faccio vedere che è fatto tutto quanto da questo script qua che si chiama separazione cm yk allora ci faccio doppio clic o lo trascino dentro a photoshop mi chiede con che pagina cominciare pagina 1 con che pagina finire pagina 2 in questo caso ne abbiamo due do ok e lo lascio fare e fa è uno script piuttosto complesso che richiede diverso tempo per ogni pagina lo state vedendo in tempo reale in questo momento dipende ovviamente dalla velocità della vostra macchina tenete presente che c'è un istante che ho cercato di ridurre il più possibile soprattutto anche come numero di livelli ma c'è un istante nel quale viene creato un documento a colori di 1200 dpi per cui è piuttosto impegnativo insomma comunque come vedete ha finito al limite è una procedura che io faccio a libro finito e me ne vado quindi anche se ci mette un quarto d'ora non è certo un problema in questo momento ha finito per fare due pagine ci ha messo poco insomma se vado nella cartella definitivi ecco qui il risultato nella cartella definitivi apriamo per esempio pagina 1 vedete la nomenclatura è sempre rispettata adesso è apparsa una q perché ovviamente questo file è in quadricromia questo è il file invece t con il con la pagina solo con con le linee andiamo ad aprirla e scopriremo che la pagina con le linee vedete non contiene tutta una serie di contenuti che non possono essere resi in nero comunque questo è il file con il solo nero e questo è il file con i colori e il sostegno quindi al posto del nero nelle zone in cui dovrebbe esserci nero in questo caso c'è questo blu che è il colore del sostegno che comunque personalizzabile all'interno del dello script ci pensa da solo a fare il sostegno quindi che voi lo abbiate fatto o no nel vostro file psd originale non importa comunque vedete sono perfettamente sovrapponibile quindi vedete qui questa foglia si interrompe la parte questo nero qui è fatto qui su questo file a colori perché evidentemente non è nero è appena appena più chiaro qui in questa zona vediamo chiaramente che non è più nero questo sembra quasi nero ma siccome non lo è per un po il è stato rappresentato qui invece dove cominciate a vedere l'azzurrino è la parte che verrà coperta dal nero vero ed eccolo qui il nero vero che potete anche notare si estende leggermente al di sopra di questo e quindi questo ci permette di non vedere assolutamente la la transizione tra i tra i due momenti quindi questo script fa una quantità di lavoro che a essere fatta a mano sarebbe enorme e in alcuni casi può avere dei risultati un po pittoreschi come qui che il personaggio è completamente sparito perché in realtà lo vediamo qui nel file a colori mentre qua vediamo il blu perché verrà coperto da questo inchiostro qui evidentemente c'era una luce che schiariva l'intera figura e quindi l'intera figura è nel file a 300 dpi in bianco e nero se facciamo la stessa prova che abbiamo fatto prima cioè proviamo per un attimo a portare l'immagine a 1200 dpi tanto per avere appunto l'idea di cosa succede poi prendo il file della scansione lo incollo sopra e scelgo moltiplica possiamo vedere come sarà il risultato finale il nero va vedete a sovrapporsi al file sottostante in maniera perfetta e anzi una sovrapposizione leggermente più ampia che permette di evitare il di notare la transizione quindi questo è il risultato guardate appunto per esempio sul muso del gatto si vede chiaramente adesso la differenza tra questo segno bello nitido pulito e quello a 300 dpi che è inevitabilmente così perché non è nero e che sarà il il risultato finale in stampa più o meno insomma poi vi mostrerò magari anche del del come vi ho mostrato prima dei filmati delle pagine stampate vi mostro l'effetto finale eventualmente sul libro così potete vedere la differenza c'è una nota importante da fare a questo punto voi avete un profilo ciano magenta impostato come profilo di default qui come spazio di lavoro di default il file risultato dello script avrà questo profilo ciano magenta ok questa è una parte importante che va specificata come funziona allora il questo script che fa questo lavoro qui e soprattutto come in che parti andare a modificarlo per adattarlo alla vostra situazione è sufficiente modificare queste prime righe che contengono dei valori espressi come delle variabili con dei valori tra virgolette le variabili principali sono le prime tre con le cartelle c'è vi ricordate lo script prende un file psd a colori a 300 dpi ed è speciale perché all'interno ha un layer linee del tutto uguale a quello che è un file delle scansioni quindi questo è un file psd speciale perché perché c'è questo livello che si chiama linee che è uguale a un file che si trova all'interno della cartella scansioni e che è il il file con la scansione la cosa divertente tra l'altro è che non è necessario che sia davvero uguale perché appunto per esempio in questo caso lo script ha funzionato anche se il file delle scansioni non aveva i testi lui semplicemente lo script va a sostituire questo file delle scansioni al posto del layer che qui si chiama linee quindi in realtà se il file delle scansioni poi è diverso per qualche motivo perché come in questo caso è voluto e non ci volevo più i testi lui semplicemente al posto delle linee metterà quel file lì ok quindi tornando alla lettura del nostro script questa è la cartella dove si trovano i file psd notate questa sottigliezza la doppia barra quindi voi semplicemente andate nella vostra cartella questa è la cartella con i vostri file cliccate qui sul titolo e vedete questa è il nome della cartella non dovete fare altro che copiarlo e andare a incollarlo qui stando attenti a lasciare la doppia barra alla fine e sostituire tutte le barre con delle doppie barre poi c'è la cartella che deve che contiene la scansione che è questa in realtà esattamente la prima parte è uguale a quella di prima e poi c'è scansioni quindi questa cartella qua dove andare a trovare i file con le scansioni dopodiché la terza cartella è la cartella dove verranno sputati fuori i risultati e in questo caso è la cartella definitivi che io quindi ho creato qui ed adesso ci sono questi li posso tranquillamente buttare via questa cartella adesso è vuota e contiene i definitivi le altre parti modificabili sono e è importante da fare è questa pattern del nome del file qua c'è scritto 00 fumetto è il nome del file come funzionano i vostri nomi dei file quindi è importante che voi rispettiate una certa nomenclatura la nomenclatura deve avere il numero di pagina all'inizio un testo che può essere qualsiasi cosa questo è 01 fumetto ma poteva essere 01 casa 01 testo non importa e qua finisce o in C o in Q mentre la scansione deve finire in T il risultato in definitivi avrà la Q e la T di nuovo quindi questo è anche specificato qui non inserire la Q o la T alla fine voi dovete mettere solo la prima parte può essere qualsiasi cosa lunga quanto volete eccetera eccetera non importa però deve cominciare con un doppio zero e le C le Q e le T alla fine verranno messe automaticamente gestita automaticamente questo terzo valore è importante è del nome del layer che contiene le linee all'interno del file di Photoshop questa parte è molto importante perché deve riuscire a riconoscere questo livello quindi non importa cosa ci mettete qua come colore e viene trovato perché si chiama linee quindi se il vostro si chiama in un altro modo tratto disegno dovete nel file dello script specificarlo oppure dovete fare in modo insomma di chiamare quel file linee è il layer che verrà sostituito dopodiché questi sono i valori di colore del sostegno 90 40 e 20 quel celestino che avete visto sostituire le linee quindi è questo se a voi piace un altro colore appunto per esempio più neutro questo è venuto 64 tirate via sempre il nero perché verrà sempre messo 0 per il sostegno quindi potete mettere questi numeri se vi piace avere un sostegno di questo colore o di quest'altro colore mettete questi numeri 37 35 50 e voi li mettete all'interno del file come valori CMYK CMYK e basta questa è l'unica parte che serve modificare per ogni lavoro perché presumibilmente ogni lavoro avrà una cartella diversa insomma posso solo dirvi come funziona e che funziona nella situazione nella quale lo uso io adattatelo pure alla vostra situazione se siete in grado appunto di non è niente di particolarmente strampalato insomma se siete in grado di programmare per Photoshop siete in grado di modificare questo documento senza grossi problemi a titolo di esempio vi porto qui una pagina che è già stata stampata colorata dal mio collega Paolo Francescutto e vi faccio vedere che ho preso un pezzo qualsiasi in realtà in ogni pagina ci sono queste situazioni la pagina il jpeg della pagina completa è questo mentre invece vedete è stato separato in una parte in bianco e nero che come si può vedere non comprende alcune zone addirittura qua il personaggio ha la testa tagliata qui una parte della macchina non c'è tutte cose che sono sul file a colori perché non esattamente nere ho fatto un video della pagina stampata questa è la pagina stampata uno zoom sulla pagina stampata e adesso metto un attimo in pausa potete vedere che la differenza non si vede la transizione tra il nero nero e quello che è in realtà colorato addirittura l'automobile abbiamo visto dal file di Photoshop che l'automobile dovrebbe essere separata in due vedete qua c'è del nero e nella parte della punta della macchina invece non c'è e se torno al mio video possiamo vedere che effettivamente questa linea questa erba è molto più definita ma non vedo una reale transizione tra la parte davanti e la parte dietro della macchina non vedo il sostegno blu stiamo parlando appunto di cose che sono percepibili solo come una maggior pulizia delle linee nere soprattutto quando voi guardate questi capelli qui queste linee che finiscono molto sottili è un problema nel momento in cui le porto a 300 dpi si perde molto questa punta questo elemento bello nitido e definito questo metodo ci permette di mantenere questa qualità in un modo anche piuttosto facile insomma quindi lo uso da anni senza nessun problema e secondo me è il modo di salvare capra e cavoli di riuscire ad avere il segno bello come a 1200 dpi nello stesso tempo in una pagina colorata senza diventare matti a lavorare a risoluzioni assurde per il colore insomma sono arrivato alla fine di questo video piuttosto lungo ma d'altra parte l'argomento era complesso e si tratta anche di una delle caratteristiche principali del mio modo di colorare insomma sulla mia pagina gamroad quindi gamroad.com barra malisan potete trovare appunto come dicevo il tutorial dove spiego il mio metodo di colorazione digitale che poi può appunto essere concluso con quello che abbiamo visto oggi vi ricordo anche che questa parte qua sulla gestione delle immagini in bianco e nero appunto copre il tutti questi discorsi sulla risoluzione la qualità di un disegno se devo lavorare in grigio se devo lavorare in bianco e nero in bitmap a quanti dpi eccetera eccetera è tutto coperto in questa lezione e quindi spero di essere stato un minimo utile metterò a disposizione lo script sempre su questa pagina gamroad a disposizione quindi questo script per preparare i file definitivi spero che possa essere stato utile a più di qualcuno vi ringrazio e alla prossima occasione vi ringrazio e alla prossima